salve a tutti il seminario di oggi sarà dedicato al mondo degli ossessivi vi ricordo che questo seminario fa parte di un ciclo di lezioni che andranno ad approfondire almeno insomma questa e l'idea approfondire le modalità di fare esperienza di una serie di mondi psicopatologici abbiamo iniziato con i fobici nel precedente seminario oggi parleremo degli ossessivi poi sarà la volta dei disturbi alimentari dei depressi e degli ipocondriaci la prospettiva dalla quale affronteremo gli argomenti sarà quella della clinica nella prima parte cercheremo di dare una breve descrizione di quali sono gli aspetti sintomatologici caratteristici delle varie forme di psicopatologia in seconda battuta cercheremo di dare una descrizione più orientata ai significati e al tessuto dell'esperienza avendo come riferimento il modello della psicologia post razionalista con il dsm 5 il dsm 5 è il manuale di classificazione delle patologie mentali più utilizzato dai professionisti del settore e il dsm 5 l'ultima versione che risale a qualche anno fa ormai più di qualche anno fa del 2013 comunque insomma con il dsm 5 la classe di disturbi ossessivi è stata riorganizzata e cioè il disturbo ossessivo compulsivo è stato tolto dalla categoria dei disturbi d'ansia fino a quel momento il disturbo ossessivo compulsivo rientrava nel novero dei disturbi d'ansia invece è stato tolto dalla categoria dei disturbi d'ansia gli è stata data una sua autonomia nosografica includendolo nei disturbi dello spettro ossessivo compulsivo insieme ad altre patologie accomunate dalla presenza di reazioni ossessive e comportamenti compulsivi in questa categoria quindi oltre al disturbo ossessivo compulsivo sono stati raggruppati altri quadri diagnostici come il disturbo da accumulo patologico o anche definito disposofobia o hoarding in inglese che descrive gli accumulatori seriali c'è persone che non riescono a disfarsi di una serie di oggetti oggetti che progressivamente arrivano ad occupare i propri spazi di vita quotidiana o i propri spazi di lavoro fino ad ostacolarne la convivenza gli elementi che caratterizzano il disturbo sono tre l'acquisizione e l'incapacità di gettare una grande quantità di oggetti generalmente di scarso valore il fatto che tali oggetti vanno ad occupare progressivamente gli spazi domestici dell'individuo impedendone una normale agibilità e il fatto che a causa dell'accumulo sia un progressivo deterioramento del funzionamento dell'individuo con ritiro dalle relazioni sociali conflittualità con il coniuge impoverimento progressivo degli spazi di vita quotidiana gli altri disturbi dello spettro ossessivo compulsivo sono la tricotillomania che è caratterizzata dallo strapparsi i capelli in maniera compulsiva il disturbo da escoriazione cutanea questi sono pazienti che si procurano lesioni cutanee in seguito a ripetute ripetuti e compulsivi grattamenti e il disturbo da dismorfismo corporeo che è caratterizzato da preoccupazioni eccessive per presunti difetti o imperfezioni del proprio aspetto fisico che però gli altri non notano o che comunque non sono così evidenti il disturbo ossessivo compulsivo è caratterizzato da due ordini di fenomeni le ossessioni che hanno la forma di pensieri immagini o impulsi ripetitivi e persistenti vissuti come intrusivi cioè estranei al proprio abituale mondo interiore queste rappresentano una ricorrente fonte di preoccupazione determinano ansia e a volte veri e propri stati di angoscia il soggetto è frequentemente impegnato nel cercare di sopprimerle o di neutralizzarle attraverso altri pensieri o delle azioni i contenuti delle ossessioni sono generalmente caratterizzati da pensieri che provocano disgusto o sensi di colpa come la possibilità di sporcarsi o di contaminarsi dalla presenza di immagini intrusive a sfondo sessuale spesso di tipo pornografico o dalla dalla presenza di pensieri o immagini blasfemi poi abbiamo vissuti di paura come la possibilità di aver contratto qualche malattia la possibilità di poter far del male a una persona cara la possibilità di poter perdere il controllo e compiere un gesto estremo come per esempio uccidersi defenestrarsi o uccidere un proprio familiare e un altro dei contenuti tipici delle ossessioni è quello determinato da esigenze di ordine sono quei pensieri caratterizzati da esigenze di ordine e di simmetria altra caratteristica psicopatologica tipica delle ossessioni è quella del dubbio questi pazienti infatti sono frequentemente ossessionati da dubbi dubbi ricorrenti e pervasivi dubbi anche su azioni banali della quotidianità come aver spento il gas aver chiuso la porta di casa aver spento le luci di casa questi dubbi o ruminazioni mentali a volte possono riguardare anche il proprio orientamento sessuale o le proprie scelte affettive per esempio sono pazienti che si ripetono continuamente se possono aver fatto la scelta giusta rispetto al coniuge alla persona amata eccetera a volte queste ossessioni sono caratterizzate da quello che si definisce pensiero magico come ad esempio il caso è dirsi se tocco quell'oggetto accadrà qualcosa a mio figlio oppure se ripeto dieci volte la stessa sequenza di parole salverò mia figlia da un grave incidente che se volete le possiamo considerare variabili varianti variabili patologiche delle classiche superstizioni come se passo sotto una scala o se incontro un gatto nero mi potrà succedere qualcosa le compulsioni invece sono caratterizzate da comportamenti ripetitivi e stereotipati come lavarsi le mani riordinare controllare oppure da azioni mentali come contare pregare ripetere mentalmente delle parole quindi comportamenti o azioni mentali che il paziente mette in atto allo scopo di ridurre o prevenire l'ansia ansia che è stata generalmente provocata dalla insorgenza di ossessioni di un'ideazione ossessiva per esempio individui affetti da immagini intrusive blasfeme sotto forma di ossessioni possono trovare un certo sollievo contando dieci volte all'indietro e venti volte in avanti lo stesso numero per ogni pensiero o immagine intrusiva la letteratura scientifica ha mostrato che in più del 90 per cento dei casi le ossessioni e le compulsioni sono presenti contemporaneamente nei pazienti e tendono a manifestarsi secondo una certa coerenza tematica per esempio le ossessioni di contaminazione si accompagnano a rituali di lavaggio di pulizia quelle di ordine e simmetria si accompagnano a comportamenti compulsivi di riordino dei propri ambienti sono frequenti nell'ambito delle compulsioni rituali di controllo che avvengono su diciamo prima azioni anche banali della vita quotidiana come controllare più volte se si è chiuso il gas se si è spento il fornello o se si è chiusa la macchina poi abbiamo rituali con funzione scaramantica per esempio alzarsi dal letto poggiando sempre lo stesso piede per prima oppure camminando seguendo la linea di fuga delle mattonelle in maniera in maniera precisa appunto ossessiva altre forme tipiche di compulsioni sono i rituali di lavaggio i rituali di lavaggio riguardano in genere le mani sono pazienti che devono lavarsi decine di volte al giorno le mani oppure l'intero corpo pazienti che fanno più e più volte durante la giornata la doccia o a volte in maniera più selettiva le parti intime e questi rituali di lavaggio sono generalmente legati a idee ossessive di contaminazione o di contagio si definiscono anche tecnicamente comportamenti rupofobici tra le azioni mentali a carattere compulsivo le più frequenti sono quelle di elencare numeri utilizzarli in varie forme di elaborazione matematica oppure recitare preghiere o formule o parole oppure ripetere mentalmente pensieri o immagini per darvi un po' un'idea pratica del mondo degli ossessivi vi cito rapidamente un paio di casi clinici il primo è quello di una signora sui 35 anni vista un po' di anni fa che arrivò in clinica per un ricovero con una sintomatologia estremamente invalidante una sintomatologia che la vedeva trascorrere dalle 15 alle 18 ore impegnate in rituali di lavaggio rituali di lavaggio che riguardavano prevalentemente le parti intime la paziente trascorreva gran parte della notte nel bagno nella vasca e aveva dovuto rinunciare per questi rituali a gran parte delle sue attività domestiche era una mamma di due bambini allora piccoli ed era una casalinga molto impegnata nel suo ruolo una di quelle che si definiscono massaie perfette e con l'insorgere di questa sintomatologia progressivamente aveva dovuto abbandonare tutte quelle che erano le sue attività quotidiane e la sintomatologia ossessiva aveva nell'arco di un po' di mesi bloccato completamente la sua vita la paziente poi con la terapia farmacologica specifica iniziò a migliorare e aveva dei buoni miglioramenti ma anche adesso sono passati tanti anni diciamo non ha avuto più crisi importanti ma quindi diciamo ufficialmente adesso è in una fase di buon compenso clinico ma anche adesso che sta bene è impegnata comunque in dedica al lavaggio quotidiano dalle 2 alle 3 ore al giorno e pensate che per questa tendenza compulsiva ai rituali di lavaggio la paziente ha dovuto subire negli anni nell'arco di circa 20 anni 4 interventi per prolasso rettale e 2 interventi per prolasso vescicale un altro caso interessante è quello di un giovane adulto di circa 30 anni che aveva sofferto da sempre di una sintomatologia ossessiva fino agli anni dell'adolescenza per esempio doveva alzarsi dal letto sempre poggiando per primo il piede destro oppure aveva rituali di lavaggio delle mani che in alcuni periodi diventavano molto più frequenti oppure tra le varie compulsioni c'era quello di contare delle serie di numeri e quando lo vedo in prima battuta lo scompenso clinico di quel periodo era determinato dall'ossessione per il numero 12 la madre era morta uno o due anni prima il 12 dicembre quindi 12-12 e lui aveva iniziato a diventare ossessionato dal numero 12 quindi aveva preso a sommare, sottrarre, moltiplicare o dividere qualsiasi serie di numeri in maniera tale che il risultato poi fosse sempre 12 e il 12 era diventato una sorta di numero maledetto di numero fonte di grande angoscia quindi che andava assolutamente evitato e questa cosa succedeva con le targhe delle macchine quindi aveva smesso di guidare e poi aveva smesso anche di utilizzare in qualsiasi modo le auto ma per esempio anche con i codici a barre dei supermercati quindi questo lo portava ad evitare qualsiasi tipo di cibo che mostrasse un codice a barre la diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo implica un significativo disagio personale una significativa interferenza con le attività quotidiane della persona il disturbo generalmente insorge precocemente intorno ai 20 anni nella maggior parte dei casi insorge prima dei 25 anni la prevalenza nell'arco di vita del 2-3% nella gran parte dei casi due volte su tre un disturbo ossessivo compulsivo è associato a un disturbo d'ansia o a un disturbo dell'umore e nella manifestazione del disturbo ossessivo compulsivo sembra inoltre esserci anche un'importante influenza familiare in termini genetici si stima che l'ereditabilità del disturbo è intorno al 45% vediamo ora come prende forma la dimensione dell'esperienza psicopatologica degli ossessivi la famiglia dell'ossessivo è caratterizzata da genitori affettivamente freddi sempre molto esigenti senza essere emotivamente supportivi in queste famiglie si ritrovano spesso aspetti educativi rigidi che utilizzano a volte la violenza e l'umiliazione come metodi pedagogici e che tendono a trattare i bambini come piccoli adulti nelle storie familiari degli ossessivi è frequente un rapporto con le figure genitoriali caratterizzato da una grande ambivalenza con l'evocazione di sentimenti antitetici e contrastanti che fanno fatica a prendere forma sentimenti come amore e odio, ammirazione e rancore, paura e rabbia la componente affettiva dell'accudimento è sempre coperta da rigide regole educative e sono frequenti le prescrizioni comportamentali severe o comunque spesso incomprensibili agli occhi del bambino un esempio letterario di queste modalità nell'atteggiamento genitoriale lo troviamo in alcune pagine di Kafka in particolare quelle relative alla lettera al padre la lettera al padre è un documento autobiografico di Kafka scritto nel 1919 mai consegnata in realtà al padre è pubblicata postuma negli anni 50 dopo la morte dell'autore nella lettera al padre emergono aspetti salienti del rapporto di Kafka con il genitore come sentimenti di grande ambivalenza amore e odio in termini di grande ammirazione e contemporaneamente rabbioso rancore per il suo modo di fare si evince inoltre uno schiacciante senso di inferiorità nei confronti del padre un ricorrente timore per una punizione percepita sempre come imminente il dolore e la delusione per la mancanza di manifestazioni d'affetto vi cito qualche riga delle pagine della lettera al padre i tuoi efficacissimi strumenti educativi in campo oratorio che almeno con me non hanno mai fallito erano ingiurie, minacce, ironie, risate sarcastiche e strano a dirsi autocommiserazione e ancora una volta di notte frignavo perché volevo un po' d'acqua certo non per sete ma probabilmente in parte per farvi arrabbiare e in parte per divertirmi dopo che alcune severe minacce non erano servite a niente mi prendesti dal letto mi portasti sul ballatoio e mi ci lasciasti per un po' in camicia da notte davanti alla porta chiusa in seguito fui certo più arrendevole ma ne riportai un danno interiore data la mia natura non riusci mai a stabilire il giusto nesso tra l'elemento per me ovvio del mio insensato chiedere l'acqua e quello eccezionalmente spaventoso dell'essere portato lì fuori è una descrizione in cui emerge bene l'importante divario di significati tra quella che era la prospettiva del bambino la prospettiva del bambino che era quella della capricciosità del voler attirare l'attenzione dei genitori e quella del mondo dell'adulto con le sue rigide regole di educazione il rapporto di kafka con il padre come emerge nelle descrizioni della lettera è paradigmatico della cifra educativa del genitore ossessivo questa infatti è caratterizzata da un rigido rigore un rigido rigore educativo e da un'affettività fredda mai empatica e comunque incapace di essere comprensiva di quello che è il mondo dell'infanzia il bambino viene considerato non nelle sue peculiarità ma come un adulto in miniatura e quindi trattato come tale le difficoltà del rapporto di kafka con il padre le ritroviamo alla base di un profondo e onnipresente senso di colpa nello scrittore presente nella vita dello scrittore non determinato da fatti reali ma radicato profondamente in termini emotivi ed è proprio quel vissuto di colpa senza un'attribuzione comprensibile di significati o una qualsivoglia spiegazione razionale che in romanzi come Il processo troverà la sua espressione letteraria più matura infatti in questo romanzo Joseph K che è il protagonista si ritroverà in una schiacciante macchina processuale senza che riesca mai a venire a conoscenza dei capi d'accusa, dei capi d'imputazione e infine verrà condannato e non saprà mai perché è la colpa che si autolegittima il senso di colpa radicato emotivamente e senza una qualsiasi spiegazione razionale diventa un nucleo esistenziale centrale per il personaggio un nucleo esistenziale che cristallizza l'intera esperienza del protagonista torniamo all'ambivalenza nelle famiglie degli ossessivi l'ambivalenza è caratterizzata dal prendersi cura del figlio in maniera affettivamente distaccata elargendo punizioni e rigide regole comportamentali con la spiegazione che tutto ciò viene fatto per il bene del bambino se papà ti mena ti umilia ti costringe a stare chiuso nello stanzino al buio ma è perché ti vuole bene è per il tuo bene che lo fa in queste famiglie è frequente che il distacco affettivo dei genitori sia mascherato da atteggiamenti educativi ad esempio i genitori limitano i contatti fisici con il bambino si raccontano nel momento in cui fanno questo che lo fanno non perché hanno loro difficoltà a gestire la propria dimensione emotiva ma perché questo deve essere il comportamento di un genitore ideale che non deve cedere a smancerie o debolezza per forgiare un carattere forte e sicuro di sé nel bambino i sistemi educativi rigidi basati frequentemente sulle punizioni anche corporali su regole di studio pressanti e richiestive su prescrizioni comportamentali rigide e improntate al senso del dovere insomma quei sistemi educativi che vedono i bambini come piccoli soldatini hanno generalmente proprio questa funzione punire e far soffrire il bambino oggi perché domani possa essere un adulto capace e sicuro di sé in queste famiglie il livello della spiegazione è sempre prioritario a scapito del livello emotivo affettivo che generalmente non è considerato se non addirittura negato le manifestazioni emotive e affettive non si prestano facilmente ai sistemi educativi rigidi in quanto sono poco controllabili proprio in quanto maggiormente caratterizzati da spontaneità e immediatezza le emozioni per definizioni sono spontanee non sono controllabili quindi tendono ad essere escluse dalla vita familiare del bambino in queste famiglie si cerca di non incoraggiarle le emozioni di non frequentarle nelle emozioni meno se ne parla e meglio è l'educazione ha quindi generalmente il carattere della disciplina e del rispetto di regole e sistemi formali di riferimento e si svolge secondo parametri pratico-razionali che tengono in poca o nulla considerazione gli aspetti emotivi e le esigenze dei bambini in questo modo di fare è evidente l'ambivalenza delle figure genitoriali cercando di essere genitori ideali si mostrano allo stesso tempo freddi e distaccati la loro genitorialità è caratterizzata soprattutto dall'impartire prescrizioni comportamentali e regole morali prescrizioni e regole che dovranno fare del bambino un piccolo adulto provetto anche il gioco da questo punto di vista viene spesso utilizzato con finalità meramente educative spesso il momento del gioco è vissuto come una mera esercitazione didattica l'ambivalenza della posizione genitoriale che mostra allo stesso tempo atteggiamenti di dedizione e interesse nei confronti del bambino ma contemporaneamente di ostilità e aggressività impedisce al bambino di sintonizzarsi su stati emotivi ben delineati il mondo emotivo emerge spesso in maniera contraddittoria amore odio riconoscenza rancore affetto distacco queste sono emozioni contrastanti come voi capite che fanno fatica a prendere forma in maniera simultaria e questo mondo emotivo peraltro è continuamente soggetto a spiegazioni di tipo logico discorsivo da parte dei genitori non è importante quello che il bambino prova non è importante la sua esperienza emotiva delle situazioni ma quello che è importante è la sua comprensione logico razionale delle cose e il livello della spiegazione logico discorsiva serve anche a tenere lontano il mondo dell'immediatezza e della spontaneità della vita emotiva vi faccio un paio di esempi di 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 questa di questa modalità dei genitori della famiglia di una famiglia ossessiva di riformulare sempre in senso di spiegazione logico discorsivo logico discorsiva quella che è l'esperienza dei bambini un esempio è quello di un bambino figlio di un astrofisico che chiede al papà in una notte di plenilunio che cos'è quella grande palla luminosa che si vede in cielo e il papà risponde con uno spiegone sull'importanza dei pianeti satelliti e la loro influenza sui fenomeni della terra e delle maree questo è un bambino di 6-7 anni e un altro esempio è quello riportato da una mia paziente il cui marito ossessivo alla figlia di 9 anni che gli chiedeva cos'era una piantina quella piantina vista sul davanzare di un'amica aveva tirato giù una spiegazione sul mondo vegetale che sembrava una puntata di quark come mi raccontava la paziente in questi casi viene da sé che in queste famiglie le dimensioni cognitive del pensiero razionale logico formale saranno naturalmente più sviluppate a scapito delle competenze emotive che saranno invece inevitabilmente penalizzate il mondo emotivo del bambino sarà quindi caratterizzato da emozioni originarie spesso discrepanti amore e odio riconoscenza rancore rabbia paura emozioni discrepanti che difficilmente riescono ad essere integrate e quindi difficilmente riescono ad essere riconosciute lasciando quindi spazio ad emozioni più immediate e riflessive quali la colpa l'imbarazzo la vergogna infatti queste emozioni come la colpa e la vergogna che vengono definite emozioni valutative sono emozioni molto mentalizzate con una ridotta componente sensoriale diciamo che sono più emozioni di testa che di pancia quindi sono emozioni appunto dette valutative in quanto si riferiscono al sentirsi più o meno adeguati rispetto all'altra all'interlocutore all'altra persona di riferimento o rispetto ad un sistema di regole o di precetti presi come riferimento per esempio essere un bravo studente o un bravo soldato o un bravo credente comporta aderire completamente a determinate regole e precetti e quando questo non avviene la colpa o la vergogna sono le emozioni con le quali l'individuo dovrà confrontarsi più frequentemente naturalmente i temi di colpa o di vergogna possono prendere le forme più varie come il caso di una giovane paziente ossessiva che in coincidenza con una separazione conflittuale dei genitori si sentiva divisa a metà come due personalità completamente diverse che stanno una di fronte all'altra con grandi sensi di colpa perché una delle due amava sua madre l'altra era arrabbiata con lei e non le voleva bene la mia più grande paura diceva è quella di non voler più bene alle persone care i suoi sentimenti verso le figure genitoriali erano caratterizzati da sentimenti concomitanti e contrastanti di amore e rabbia rabbia per la separazione e per le modalità con le quali era avvenuta non riuscendo ad integrare emozioni così discrepanti tra di loro l'emotività della paziente prendeva la forma di immagini intrusive di lei che per esempio si rasava i capelli a zero e diventava maschio voi capite come il tema della rabbia e del rancore nei confronti del genitore è sotto traccia nell'immagine intrusiva di lei che si rade i capelli e che ha paura di diventare maschio il vissuto della colpa può mascherare spesso temi di inadeguatezza come nel caso della giovane mamma che dopo la nascita del suo primo figlio sentendosi inadeguata e non all'altezza del suo ruolo nuovo ruolo genitoriale presentava le immagini intrusive di lei che getta il bambino dalla finestra una sintomatologia che non fa che aumentare i sensi di colpa e i vissuti di inadeguatezza la dicotomia tra immaginazione e pensiero tra emozione e razionalità sarà un filo conduttore fondamentale nella costruzione della prospettiva del mondo degli ossessivi per loro infatti sarà fondamentale restare sempre nell'ambito di una delle due dimensioni quella della razionalità perché appena si sbaglia e ci si ritrova nella dimensione opposta quella del terreno sconosciuto più o meno all'oro delle emozioni e questo diventa un problema e sanno che lì giocano una partita per la quale sono sguarniti e che molto probabilmente li vedrà perdenti da questa necessità di mantenersi sempre sul terreno della razionalità e da questa visione rigidamente dicotomica si comprendono alcune caratteristiche psicologiche distintive degli ossessivi come il perfezionismo il dubbio assiduo e sistematico sulle proprie scelte il continuo procrastinare nel prendere delle decisioni tutti atteggiamenti comprensibili alla luce del non potersi permettere di sbagliare il loro perfezionismo è generalmente determinato dalla continua ricerca di adesione ad un sistema impersonale di regole di procedure di ordine sistema impersonale a cui corrispondere per garantirsi una propria stabilità personale a volte questi sistemi sono anche codificati socialmente come negli ordini religiosi o nella vita militare e definiscono vere e proprie regole di vita quotidiana non so se ricordate il film quel che resta del giorno film di James Ivory di un po' di anni fa negli anni 90 tratto dal libro dello scrittore nippo britannico Ishiguro la storia era centrata sul personaggio del signor Stevens mister Stevens questo era l'impassibile maggiordomo completamente dedito al suo lavoro e alla fedeltà al suo padrone che era Lord Erlington che rappresentava nell'Inghilterra negli anni 30 la figura dell'aristocrazia britannica che simpatizzava con il nazismo e in questa totale dedizione verso una concezione etica del suo lavoro mister Stevens si accorge una volta anziano di aver sacrificato la sua esistenza le gioie i dolori i sentimenti quelli per esempio che aveva provato verso la giovane governante Miss Kenton nel momento in cui lei era arrivata nella nella loro tenuta e per la quale aveva mostrato una inattesa attrazione insomma di aver sacrificato tutto ciò per un ideale di vita astratto cioè quello del maggiordomo impeccabile e irreprensibile emblematica è la scena in cui riceve la notizia della morte del padre che avveniva al piano superiore della casa continuando impassibile a servire in un sontuoso banchetto una citazione nel film che esemplifica bene il concetto appena esposto e nelle parole che pronuncia verso Miss Kenton la governante in uno dei loro primi incontri permettetemi di formulare la cosa in questo modo la dignità in un maggiordomo ha a che fare fondamentalmente con la capacità di non abbandonare mai il professionista nel quale si incarna e nella misura in cui il racconto di una vita si era basato sulla identificazione in un ideale astratto e impersonale si era infine rivelata sterile e lo aveva reso il triste protagonista di una vita povera di eventi personali anche se per contrasto era stata vissuta tra eventi e personaggi storici di grande importanza che l'avevano attraversato quindi questa vita era sentita alla fine del giorno alla fine della sua esistenza come inautentica una delle frasi conclusive del libro è dovrei smettere di ripensare tanto al passato dovrei assumere un punto di vista più positivo e cercare di trarre il meglio da quel che resta della mia giornata dopo tutto cosa c'è mai da guadagnare nel guardarsi continuamente alle spalle e prendersela con se stessi se le nostre vite non sono state proprio quello che avremmo desiderato quindi la modalità di fare esperienza del mondo da parte degli ossessivi è generalmente caratterizzata da un rigido complesso di regole e sistemi astratti ai quali aderire sistemi come la religione la legge la scienza la morale i comportamenti etici e la propria condotta è valutata in base all'aderenza a tali sistemi per loro saranno centrali come si diceva prima le emozioni cosiddette valutative cioè emozioni come la colpa la vergogna l'imbarazzo emozioni che si provano in relazione alla valutazione e al giudizio che si coglie nell'altro o che ci si autoattribuisce in relazione all'aver aderito o meno ai propri sistemi di regole per esempio per un parroco l'emozione suscitata dall'essere attratto da una giovane donna in confessionale viene immediatamente letta come colpa piuttosto che come attrazione ai sex queste emozioni valutative sono caratterizzate va da sé da una minore nitidezza e da una minore minima rilevanza corporea quindi sono emozioni poco sensoriali ma nonostante questo possono avere un grosso impatto sulle scelte di vita e sugli aspetti comportamentali e prescrittivi dell'individuo torniamo a dei riferimenti letterari per spiegare meglio il concetto abbiamo già visto come il tema della colpa pervade la vita e le opere di Kafka un tema biografico analogo lo troviamo in shoran kirk nel quale il tema della colpa è addirittura transgenerazionale aveva attanagliato il padre prima di lui padre che si sentiva colpevole per essere stato un blasfemo bestemmiatore quando era ancora un povero pastorello quindi prima di diventare un ricco commerciante e questo tema della colpa era stato rafforzato nel padre da una sorta di temuta punizione divina cinque dei suoi sette figli maschi moriranno in giovanità e shoran ultimo genito sarà avviato agli studi di teologia kirk 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 è interessante in quanto riesce a formalizzare in termini filosofici uno dei temi cardini degli ossessivi e cioè la visione dicotomica del mondo il fatto che le cose vengano prevalentemente viste in bianco o in nero senza una scala dei grigi secondo appunto la logica binaria della razionalità quella per cui se una cosa non è vera è falsa in kirk questa logica dicotomica assorge al sistema filosofico la dimensione esistenziale dell'uomo è caratterizzata dal trovarsi incessantemente nella condizione di dover fare delle scelte e quindi l'esistenza è descritta in termini di scelte radicali di out out come recita il titolo di una delle sue opere più conosciute in questa in out out lui descrive due modalità antitetiche di esistenza da una parte la dimensione estetica del don giovanni di chi vive costantemente immerso nella soddisfazione dei sensi del qui ed ora in una sorte di eterno presente volto al soddisfacimento immediato delle passioni dall'altra la vita etica impersonata dal consigliere guglielmo che vive secondo un progetto che è fatto di un passato di un presente e di un futuro quindi completamente diversa dalla immediatezza del don giovanni e in questo si proietta in questo progetto si proietta con i suoi doveri le sue responsabilità che sono rivolte verso la moglie la famiglia i suoi incarichi professionali o si sta da una parte o si sta dall'altra inevitabile la scelta quindi va da sé come sia inevitabile sentirsi spesso e volentieri dalla parte sbagliata del mondo in una esistenza inadeguata rispetto ad un sistema così rigidamente preordinato e a delle griglie interpretative così ristrette la dialettica di Kierkegaard come direbbero i filosofi è una dialettica disgiuntiva o sia una cosa o sia un'altra manca il momento della sintesi noi lo citiamo perché è questo tipo di dialettica che permea la visione del mondo degli ossessivi una visione del mondo strutturalmente dicotomica in bianco o in nero senza lasciare spazio ai grigi ed è in base a questa dialettica nel momento in cui non riesco a sentirmi parte di un sistema formale di valori che diventa inevitabile cadere nell'angoscia nella sofferenza e nella patologia dove il senso del peccato della colpa e della vergogna diventano emozioni costitutive del senso di sé dalle quali fuggire o nelle quali naufragare da questa prospettiva gli aspetti sintomatologici cardini degli ossessivi le ossessioni e le compulsioni che abbiamo visto prima possono essere visti come una modalità attraverso la quale pezzi importanti della propria esperienza aspetti emotivi che il paziente non riesce ad integrare e quindi non riesce a riconoscere questi aspetti emotivi emergono con tutta la loro irruenza e con un carattere di estraneità rispetto alle consuetudini di una esperienza di sé caratterizzata invece da una dimensione logico discorsiva e iperrazionale e sono questi aspetti emotivi non riconosciuti come propri spesso legati a temi di rabbia o di aggressività o a tematiche sessuali che possono dar forma ad una psicopatologia caratterizzata da immagini o pensieri che fanno irruzione nella vita mentale della persona e che deve quindi ricorrere a rituali o comportamenti compulsivi come estremo tentativo di tenere sotto controllo tale attivazione emotiva sotto legita di una razionalità difensiva infatti emozioni come quelle legate alla rabbia o alla sessualità rappresentando un dominio emotivo abbastanza problematico da afferrare razionalmente come ben possiamo immaginare e quindi anche molto difficili da controllare costituiscono tra i momenti più a rischio di una emergenza psicopatologica per questi pazienti in questo senso l'introduzione dell'idea ossessiva rappresenta l'irruzione di un evento emotivo importante e discrepante rispetto al senso di sé nel quale l'ossessivo si riconosce per esempio la mamma centrata sull'immagine di mamma perfetta cui non è concesso di provare sentimenti negativi come ad esempio la rabbia nei confronti del bambino neonato che la sveglia 20 volte durante la notte perché lui è un neonato e i neonati piangono durante la notte e lei la mamma dopo le prime settimane inizia ad avere le immagini intrusive di gettare il bambino fuori dalla finestra immagini che naturalmente non riconosce come proprie quindi le vive con grande angoscia in quanto la mandano di colpo nell'altra parte del mondo dove non vorrebbe mai stare quella delle emozioni quella della rabbia che per loro natura le emozioni sono ineludibili e inevitabili e che possono prendere forma e consistenza nonostante i nostri tentativi di respingerle di negarle o di controllarle io non posso impedirmi di avere paura o non posso impedirmi di provare rabbia o attrazione sessuale se l'emozione mi prende io posso solo imparare a gestirla ma per far questo devo prima riconoscerla ed è proprio sul riconoscimento delle emozioni che gli ossessivi hanno il loro tallone d'Achille e quello che non riconoscono lo vivono come qualcosa di estraneo per esempio l'immagine intrusiva di lei mamma che scaraventa il bambino dalla finestra e tanto più la mamma è angosciata tanto più il bambino piange e così via in conclusione spero di aver dato un qualche saggio di quella idea di mondo degli ossessivi delle loro prospettive e del loro modo di fare esperienza sottolineando come tra le rigidità di un impeccabile maggiordomo o la visione del mondo dicotomica di un filosofo dell'esistenza e le criticità di un paziente con una sintomatologia ossessiva ci possa essere una sorta di continuità e una certa condivisione di significati di un'esistenza